Hanno giocato bene, scegliendo di attaccare e sfondare soprattutto per vie centrali. E grazie alla qualità di questo gioco offensivo sono riusciti a ottenere una vittoria meritatissima. Ci resta solo il tempo per ringraziare i telespettatori che sono stati con noi. Un grazie a Luca per avermi affiancato nella telecronaca. Grazie e a presto Fabio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.